benvenuti e benvenuto a un nuovo appuntamento con dna l'approfondimento giornalistico di medicina di caserta sera oggi parleremo di come prevenire gli infortuni sportivi ne parleremo ovviamente con i nostri ospiti subito dopo la sigla sigla bene andiamo ritorniamo agli studi andiamo a presentare i nostri ospiti che sono la dottoressa patrizia maiorano fisiatra e quindi specialista in medicina fisica e riabilitazione si interessa quindi di riabilitazione ortopedica neurologica e sportiva di patologie della colonna e di quelle legate alla postura benvenuta dottoressa buonasera e non ultimo il dottor biaggio menna radiologo laureato presso l'università degli studi della campania luigi vammitelli e dirigente medico presso il reparto di radiologia del presidio ospedaliero di piedi monte mates e benvenuto anche a lei grazie buonasera la dottoressa ci risponderà alla prima domanda lei si interessa di sport e soprattutto di calcio quali sono gli sport che predispongono maggiormente agli infortuni beh diciamo che un po tutti gli sport possono predisporre ad infortuni dipende anche dal tipo di infortunio perché c'è quello da trauma diretto e quello da trauma indiretto quello da trauma diretto è quello da contusione e soprattutto avviene negli sport di squadra quindi in tutti gli sport di squadra si può avere questo tipo di trauma quello da trauma indiretto è quello che classicamente avviene nel calciatore che da solo può avere la rottura del legamento crociato anteriore poi ci sono anche traumi diversi come nel basket nella pallavolo nell'atletica leggera dove l'atleta è sottoposto maggiormente a dei salti quindi ci possono essere tendiniti lesioni tendine soprattutto muscolari o anche fratture osse da stress proprio per lo stress a cui sottopongono le articolazioni e quindi l'apparato muscolare ecco il fattore età incide sugli infortuni per esempio accadono più infortuni nei dilettanti o nei professionisti secondo lei allora l'età incide perché col passare degli anni tutti i tessuti tra virgolette invecchiano questo non vuol dire che a 35 40 anni si è vecchi però se si sottopone il proprio corpo a ad uno sforzo fisico per tanti anni anche la muscolatura va incontro a dei cambiamenti perché il muscolo diventa anche meno elastico quindi anche più difficile tenerlo in una lunghezza adeguata a sottoporlo poi allo sforzo fisico e quindi c'è anche un diciamo una ridotta riserva funzionale del muscolo quindi l'età sicuramente incide poi per quanto riguarda dilettanti e professionisti gli infortuni si hanno sia negli uni che negli altri per motivazioni diverse perché nei dilettanti si hanno soprattutto perché chi va a giocare a calcetto nel fine settimana non ha la buona preparazione fisica del professionista e poi perché anche i campi non sono adeguate le attrezzature non sono adeguate nei professionisti avvengono invece per altre motivazioni proprio perché loro sono sottoposti a uno sforzo molto superiore per perché hanno tanti allenamenti perché le partite sono sempre più ravvicinate e per esempio se il dilettante che va a giocare a calcetto ha un risentimento al polpaccio la settimana dopo non ci va invece il professionista magari ci va lo stesso si fa fare un massaggio di scarico si fa fare un allungamento dal fisioterapista dieci minuti prima di entrare in campo e va quindi si sottopone maggiormente ad un rischio di infortuni quindi l'allenamento è fondamentale assolutamente ma soprattutto è importante la preparazione fisica la preparazione atletica ecco ci sono infortuni piuttosto che altri in base diciamo allo sport ovviamente praticato sì proprio come dicevo all'inizio nel calciatore sicuramente c'è uno sforzo maggiore a livello di caviglia di ginocchio ma anche a livello di colonna perché c'è un sovraccarico della colonna così come anche del ciclista la posizione del ciclista sottopone ad uno sforzo eccessivo la colonna l'anca e il ginocchio mentre basket pallavolo soprattutto caviglia ginocchio ecco facciamo il tennista il tennista scusi è sottoposto maggiormente al sovraccarico dei muscoli del braccio e della spalla quindi l'epicondilite che è proprio classica del tennista ma anche di spalla ecco come si affronta intanto un recupero da infortunio diciamo in termini di riabilitazione questo è un tema che ci tengo pure io particolarmente quindi si prende tutto il tempo che vuole allora innanzitutto dipende dal tipo di infortunio perché se si tratta di una frattura da stress da una rottura del legamento crociato anteriore una rottura del tennine ovviamente lì c'è bisogno dell'intervento chirurgico dell'immobilizzazione piano piano del recupero funzionale dell'atleta se si tratta di una lesione muscolare dipende dal tipo di lesione muscolare perché c'è di primo secondo e terzo grado in base all'entità delle fibre muscolari lese quindi l'atleta viene sottoposto quindi a riposo innanzitutto poi terapia antalgica sia farmacologica che di tipo strumentale e poi piano piano ad un recupero muscolare quindi trofismo muscolare e recupero funzionale dell'atleta l'articolazione c'è un modo per evitare che avvengano poi questi infortuni il modo per evitare gli infortuni è soprattutto la preparazione muscolare sia nei delettanti che nei professionisti perché al mio studio vengono tantissimi ragazzi che fanno sport insomma a livello amatoriale che però vanno incontro a dolori continui perché non hanno una buona preparazione muscolare io dico sempre che il muscolo che viene sottoposto a sforzo aumenta aumenta di massa muscolare però si accorcia allo stesso tempo quindi bisogna tenere una buona lunghezza muscolare per avere una riserva funzionale adeguata e per non andare incontro neanche poi a problemi tendinei almeno due quali sono gli esami diagnostici che solitamente vengono prescritti per poi magari il dottore sicuramente il collega lo dirà più nello specifico però io da fisiatra che vedo soprattutto lesioni muscolare problemi articolari quindi anche legamentosi indicano essenzialmente l'ecografia e la risonanza magnetica dottore minna ecco per esempio in caso di sospetta lesione ossea quale esami vengono eseguiti ma sicuramente in caso di sospetta lesione ossea il primo esame che viene effettuato anche quando il paziente arriva in pronto soccorso è una radiografia del distretto corporeo interessato è un esame che rapido che permette con una buona sensibilità di individuare la frattura anche se in alcuni casi diciamo soprattutto quando la radiografia è negativa ma il paziente lamenta ancora dolore molto spesso decidiamo di eseguire subito un esame di secondo livello come un atc che ci consente di individuare anche fratture che spesso alla radiografia non riescono non riusciamo a diagnosi spieghiamo l'attc 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 è una tac si esattamente è un esame molto più sensibile attraverso cui possiamo effettuare ricostruzioni su più piani e che quindi ci consente più facilmente di effettuare diagnosi molto spesso si parla nel momento in cui si ha dolore soprattutto tra i direttanti la prima cosa dobbiamo fare una radiografia ma se un fatto muscolare assolutamente assolutamente infatti se il problema sospetto appunto di tipo muscolare la radiografia serve a ben poco se non a nulla ecco qual esame va fatto invece in caso di ospetta lesione muscolare o dentina allora in tal caso solitamente come esame di primo livello viene effettuata un'ecografia che è un esame che ovviamente non prevede l'utilizzo di radiazioni quindi è un esame sicuro rapido e ripetibile è un esame che consente con una buona sensibilità di individuare lesioni muscolari quindi diciamo i cosiddetti strappi rotture di fibre muscolari così come consente di individuare ematomi e anche lesioni tendine. La dottoressa parlava della risonanza magnetica ecco intanto qual è il ruolo della risonanza magnetica? Sì la risonanza ovviamente diciamo nello studio della patologia muscoloscheletrica è sicuramente il gold standard quindi anche in questo caso anche nei traumi è un'indagine che ovviamente presenta una sensibilità molto maggiore rispetto all'ecografia è multiparametrica ha una elevata risoluzione di contrasto e consente di studiare molto bene muscoli tendini legamenti ma anche le strutture osse cosa che invece l'ecografia non consente di fare inoltre la risonanza soprattutto per alcuni distretti come per esempio come diceva la collega appunto per esempio per il ginocchio è la vera metodica che consente di studiare bene i legamenti i crociati collaterali ma anche i menischi. La risonanza fa male o no? Spesso si dice fare la risonanza fa male no? Assolutamente no assolutamente no diciamo che la risonanza è un'indagine sicuro perché non vengono utilizzate radiazioni ionizzanti solitamente quella che viene utilizzata nella patologia muscoloscheletrica non prevede l'utilizzo del mezzo di contrasto quindi non prevede particolari preparazioni quindi è un'indagine direi assolutamente sicura Diciamo nella diagnostica ci sono stati passi in avanti oltre diciamo la radiografia, la risonanza, l'eco c'è qualcosa in vista che va oltre o no? Al momento siamo fermi? Al momento diciamo siamo fermi perché comunque con la risonanza riusciamo quasi sempre a diagnosticare sempre grazie all'aiuto ovviamente dei clinici la patologia del paziente, dello sportivo e quindi in modo da poter effettuare una corretta e adeguata terapia. Ecco faccio un'ultima domanda quale conclusioni possiamo trarre da questo breve incontro? Sicuramente possiamo dire che la diagnostica per immagini ha un ruolo fondamentale nella patologia muscoloscheletrica però è sempre necessario la presenza del clinico ai fini appunto di una corretta gestione, una corretta terapia in modo che lo sportivo può riprendere a fare sport nel migliore dei modi Invece l'ultima domanda, siamo alla fine sicuramente, mi fanno cenere dalla regia, è così? E una curiosità invece tutta mia, leggendo un poco il curriculum dei nostri ospiti perché ovviamente questo va fatto, no? Lei è partecipato ad uno studio sulla prevenzione degli infortuni in collaborazione, leggevo, con lo Sbarra Institute di di Filadelfia. Ecco, di cosa si tratta esattamente? E perché è arrivato fino in fondo, fino a Filadelfia? No, vabbè, perché collaboro con lo Sbarra Institute come ricercatrice e abbiamo approfondito lo studio proprio degli atleti proprio per capire perché in alcuni c'è una maggiore predisposizione agli infortuni e in altri di meno quindi abbiamo utilizzato una tecnica con un kit salivare, il prelievo del DNA dei calciatori, l'abbiamo fatto in una squadra di serie A il primo studio, poi l'abbiamo allargato ad altre squadre ed è ancora in corso sia italiane che straniere e abbiamo visto che studiando alcuni geni specifici che riguardano proprio la formazione di tendini, di muscoli e anche del sistema vascolare abbiamo visto che alcuni calciatori hanno dei polimorfismi di questi geni, quindi delle variazioni questi polimorfismi proprio predispongono maggiormente a degli infortuni questo ci permette di capire non soltanto qual è la predisposizione di quel calciatore all'infortunio ma anche come prevenirli facendo anche degli allenamenti differenziali o anche integrando con un'alimentazione diversa Lei ha fatto ricerca e fa ancora ricerca giusto? Mi sembra anche a Siena no? Sì sì, ho fatto un dottorato di ricerca a Siena e continuo a collaborare con loro Dottore vuole aggiungere qualcosa? No, direi che è stata chiarissima Oddio, la nostra trasmissione è molto breve appunto per consentire anche a chi non conosce bene la medicina Dottoressa vuole aggiungere qualcosa? No, no, penso di aver detto tutto Bene, credo di sì Quindi la nostra trasmissione termina qui Grazie ai nostri ospiti per il loro eccezionale contributo che ci hanno dato Grazie E a voi che ci seguite Alla prossima Sigla Grazie a tutti